La prima cosa che vorrei sottolineare, poi tornerò a quanto è stato nel termine di concetto, è un po' su quello che mi sembra essere l'obiettivo di questo incontro, così dico la mia versione, visto che voi che mi avete invitato, mi avete già dato la vostra e l'avete preparato. Io penso che ci troviamo, per le cose dette, per le altre evidentemente, che cercherò di specificare, in una situazione nella quale delle realtà, e in questo ci mettiamo insieme, che sia Rete Radieres o Tribunale Permanente dei Popoli, realtà che rappresentano in qualche modo dei punti di vista minoritari rispetto alla storia, non soltanto come punti di vista, ma anche come, in qualche modo, gli strumenti con i quali si lavora. Siamo dei poverini, è bello, come citava prima, o sempre citare Erri De Luca, ma sappiamo tutti che poi, quando non si vince mai, non è poi così semplice, nel senso che va bene la spiritualità del riprendere sempre, ma non è facile. Non è facile perché certe volte non si può riprendere sempre, nel senso che gli spazi sono diminuiti, gli strumenti diventano insufficienti, cambiano gli interrogatori, i contesti, i contenuti. Se ancora nell'88, quando, come è stato ricordato prima, a Berlino, avevamo fatto, ed eravamo alla vigilia della caduta del muro, che sembra una preistoria, sapendo cosa è venuto giù dopo il muro, in tutta la parte delle sinistre, da varie parti, in quella riunione è stata fatta, e lo ricordava la Castellina recentemente, ricordando Galeano, Galeano è stato uno dei protagonisti di quell'incontro come conclusione, quella era stata una riunione convocata da circa 350 regolazioni non governative europee che hanno detto dobbiamo rappresentare l'altra faccia dello Stato rispetto all'Europa. Cresceva, la Castellina diceva in fondo, nasce là, il no global, ma il no global delle democrazie che si erano fatte tutte presenti. oggi ripetono una cosa del genere a livello internazionale, si fa ancora sul social forum, ci sono degli incontri, che diventano però sempre meno capaci di proporre qualcosa che sia una visione diversa del mondo. C'è qualcosa che ha più a che fare con piccole aree di resistenza, perché gli spazi che si vedono nella politica, non soltanto nella finanza, per immaginare che qualcosa di diverso possa farsi, per cui abbia senso, permette un minimo di feedback, sono diminuiti. Per cui penso che uno dei temi della giornata di oggi, spero anche quella degli altri gruppi e che poi dopo meriteremo insieme, è di fare quello che anche come Tribunale stiamo cercando di fare, attraverso i lavori che sono tipici del Tribunale, voi e delle vostre cose, di domandarsi quanto c'è bisogno di una proprio riflessione, ma molto concreta, non riflessione teorica, su una traduzione delle nostre identità nella realtà di oggi. Per il Tribunale la dichiarazione universale dei diritti dei popoli del 1976 ad Algeri ha bisogno di essere riformulata, che non ha bisogno soltanto di essere riformulata per fare un altro statuto, come giustamente uno dei membri del Tribunale dei popoli, Matarassò, le dichiarazioni, quando sono fatte, sono fatte ma non per essere aggiornate le dichiarazioni, sono state delle dichiarazioni storiche, non è questione di aggiornarle, è questione di sapere quanto quelle dichiarazioni universali si applicano a dei soggetti comparabili a quelli che c'erano. Ed è chiaro che non compaiono più, non c'è più bisogno di dire le relazioni universali dei diritti dei popoli. La domanda è chi sono i popoli oggi, dove sono, dove vanno soprattutto. E il problema è di sapere se il concetto stesso di universale ha lo stesso senso di prima. Ed è probabile che no. Universale in un tempo di diritti universali che erano ancora nell'orizzonte, nella dichiarazione universale dei diritti umani, erano quei diritti che per definizione dovevano essere di tutti e arrivare a tutti. Il concetto di universale, in un tempo in cui le regole del gioco sono cambiate, in cui la disuguaglianza non è denunciata, è constatata e riconosciuta come parte del modello di sviluppo. Nessuno più osa mettere in nessun programma, lo si mette nelle dichiarazioni, che ci possa essere un'uguaglianza tra gli umani. Proprio provate a vederlo. Allora, il problema è come ci si muove in questo senso qua in una situazione di questo tipo qua che è quella che constatiamo. È chiaro che poi non ho domande per noi come tribunali popoli nel senso del diritto e cercherò di dare degli esempi. Si pone anche per tutti gli organismi che in qualche modo, come ricordate qui, lavorano a livello internazionale con vari progetti ma che si trovano in fondo e veniva ricordato bene a porsi domande che sono di un'attualità drammatica qua alla stessa... Voi pensiamo che in fondo il Brasile è quasi la vostra patria, no? Come avete ancora tanti progetti in Brasile. Il Brasile oggi è uno dei grandi protagonisti della storia. Allora ci andavano nelle favela, era un luogo da militanti, la dittatura. Beh, adesso il Brasile bisogna sapere se si gioca la pari non soltanto perché è dentro dei BRICS ma perché concretamente è diventato uno dei protagonisti delle contraddizioni con le quali noi abbiamo a che fare. E evidentemente agliottare il Brasile o agliottare qua siamo molto vicini in maniera... magari sono diverse ma è sicuro che ci sono molti più ricchi in Brasile proporzionalmente di quelli che ci sono in Italia. Le disuguaglianze sono assolutamente... tendono a compararsi perché l'Italia sta diventando un campione mondiale di disuguaglianza. Il Brasile lo è stato da tanto tempo e le grandi domande che si pongono tra economia reale, finanziarizzazione e soprattutto qual è il destino delle persone concrete in queste disuguaglianze è uguale. È uguale anche perché il problema è di sapere se noi rimaniamo sempre il paese di Matteo Renzi per cui in ogni modo abbiamo con l'Expo un futuro garantito oppure siamo nella sostanza un paese molto più vicino ai vecchi PICS che corrispondono ai BRICS come esattamente quelli che cercano di sopravvivere o che sopravvivono senza avere il problema della Grecia ma soltanto perché siamo un po' più grandi ed è un... ci devo pensare un momentino perché tra l'Inghilterra che va via la Grecia non alta parte va via anche l'Italia anche quelli che vogliono controllare economicamente o finanziariamente l'Europa si troveranno con dei pasticci in mano cioè noi viviamo in pieno quello che vive gli Stati Uniti ma vive il Brasile tanto per dare un'idea visto che io mantengo il vizio di essere uno che lavora anche in sanità la domanda su ha senso avere un sistema sanitario è uguale ancora in Brasile in Italia era centrale nelle elezioni inglese che abbiamo visto ieri cosa erano andate a finire fine poi chi lo sa vedremo però il problema è che la domanda sul sistema sanitario è esattamente una domanda che è vicinissima e molto didattica per capire la dissociazione tra l'area del diritto è l'area allora della economia o della finanza chi gioca in sanità è la concezione dello Stato è una concezione del mercato che sta giocando nella sanità la stessa partita dell'energia dell'acqua per cui di immaginare è una grande area dei servizi che guarda caso oggi includono tutti i capitoli che un tempo erano inchiarati dei diritti di seconda generazione cioè tutti i diritti della vita quotidiana sono entrati a far parte di un'area di mercato che si chiama quella dei servizi o delle tante cose ritorneremo anche di dopo ricordiamoci che è l'area su cui si sta giocando in questi giorni speriamo che perdano quelli che la vogliono proporre le contraddizioni sono tante ma anche tutti i tratti transatlantici piuttosto che transpacifici tra il mercato statunitense il mercato europeo i famosi TTP piuttosto che l'altro il transpacific si stanno giocando soprattutto su questo perché i servizi hanno incluso tutto praticamente perché nei servizi passa tutto quello che riguarda anche le comunicazioni le reti informatiche la gestione del quotidiano perché di fatto sono quelli che creano ulteriormente tutte le potenziali dipendenze allora io cercherò di parlare anche di questo ma vorrei proprio anticipare questa importanza di metterci nella prospettiva di avere una sfida comune rete tribunale di guardare in avanti guardare in avanti perché effettivamente risposte prese dal passato devono essere radicalmente rovesciate non perché siano sbagliate ripeto come la dichiarazione universale il concetto in fondo di chiamiamolo solidarietà che alla base nelle sue varie definizioni e di rete rete radio che è assolutamente attuale oggi nel senso sia per quello che riguarda l'economia sia per quello che riguarda le modalità operative evidentemente è vitale ha bisogno di applicarsi in una prospettiva che lo renda effettivamente più motivante e capace di fare rete con reti perché come tribunale noi abbiamo lo stesso problema adesso si sta cercando perché allora si era pionieri di certe cose adesso si è in tanti modi e la battaglia sul diritto e l'economia si apre su tanti fronti un'ultima cosa che mi sono segnato mentre veniva fatta l'introduzione da Ungaro è molto importante quanto è stato detto prima su questo discorso e poi c'entra direttamente con il titolo così dopo entro nel mio sviluppo sulla parte della finanza speculativa rispetto alla democrazia è molto importante non soltanto perché è centrale nell'analisi e tutti ne parlano proprio il rapporto tra la finanza come una economia in fondo virtuale che può cambiarsi da in qualsiasi modo ripeto economia reale e rispetto a un problema della democrazia perché la democrazia resta intrappolata cioè quello che qui veniva fuori o viene fuori mi sembra con tutte quelle cose importanti che poi intanto il testo l'avrete anche su tutti i passaggi della shock economy il fatto cioè che l'economia che si propone come la forza razionalizzante in effetti e non soltanto perché ne parla Naomi Klein nel suo libro ma perché ne parla anche in fondo in altri termini un altro economista che è diventato molto di moda come Piketty che c'è altro pubblica anche oggi una nota piccolina su Repubblica che è interessante ci ritorneremo ma che cos'è questo fatto qui l'economia si presenta di fatto come quella che vi garantisce la pianificazione e tutto ed è invece quella che procede attraverso i meccanismi più irrazionali e meno controllabili proprio la shock economy è esattamente questa in fondo quando uno parla ma quando uno pensa che a un punto dice nel 2008 la bolla speculativa è scopiata o perbacco sembra che si è scopiato un terremoto e nessuno prevedeva è come quando fanno il discorso dell'Aquila è scopiato il terremoto in Moria allora e ci si abitua a questo punto a dare nel quotidiano una fiducia a questa cosa che non prevede niente anzi gli scoppia tutto tra le mani e ogni volta dice perbacco non me l'aspettavo non se l'aspettava una parte poi di fatto era molto pianificata tutti sapevano che sarebbe scoppiata come adesso tutti dicono che qualcos'altro scoppierà se la cosa riprende in altri paesi allora che cosa succede in questo campo qua che evidentemente quello di cui stiamo discutendo l'assalto e i diritti delle persone proprio da terra e lo riprendo perché il livello di quello che è lo scontro per resistere per avere idee in avanti a me sembra che voi come rete dovreste essere particolarmente esperti in questo campo qui almeno nell'immaginario dentro in fondo quello che si sta proponendo come con questo discorso della finanza dell'economia è quello di sostituire un immaginario che era quello dei diritti con un altro immaginario l'immaginario dei diritti della dichiarazione universale diceva è possibile che ci sia un cammino e un progetto questi dicono molto meno l'immaginario dice bisogna far così e hanno sostituiti in qualche modo lo già si diceva ma adesso diventa molto molto preciso la finanza in fondo è come quando la chiesa cioè la società pretendeva di avere come sua giustificazione una teologia dogmatica che per definizione esiste di per sé è dogmatica e dice di costudire la verità di per sé non è giudicabile è qualcosa che si autovalida permanentemente non importa anzi più va avanti più si dichiarerà infallibile tutta la storia della chiesa quello che a un certo punto è successo nell'universo di questi immaginari della chiesa è stato esattamente quando il tentativo e vedete quanto è lungo il problema di dire ma non era mica così il Vangelo era un'altra roba la democrazia è un'altra roba è una roba che ha a che fare con la gente o per vato tutti allora il Papa Francesco diventa un rivoluzionario fantastico perché non dice mica niente perché poi di cose non è ma comincia a dire ma insomma anche nell'Expo l'altro giorno tutti Renzi il futuro tutta questa roba qua Papa Francesco ha fatto questo messagno e mi ha detto ma io vi chiederei di ricordare che quando si parla della fame l'energia ci sono dei volti non è stato a riedire ma il modello dello sviluppo sa benissimo i semi no ha detto ci sono dei volti ha ricordato perché perché rispetto a un conflitto o un confronto tra immaginari vince il più forte quello che in quel momento controlla il potere e in questo senso la finanza oggi non ha un altro immaginario perché tutti hanno rinunciato all'altro immaginario tutti sono assolutamente attratti dal potere avere un'idea perché il globale ha dato l'idea che è insomma uno che ha un'idea globale è bravo perché fa l'idea che in un mondo complesso uno che ha una risposta globale è il più furbo è il più bravo in effetti il globale o il mondo globale dice nello stesso tempo che non c'è risposta che bisogna completamente continuamente dire che le cose sono troppo complesse per essere lasciate alla realtà ci vuole qualcuno che dall'alto dal centro da qualche parte che siano le borse che siano gli spread che siano la banca europea cambiano gli attori ma tutti fanno come se partecipassero alla stessa globalità ora se uno guarda nella concretezza gli direi adesso non facciamo finta se c'era un tempo in cui il mondo non è globale ma è frammentato in gente che non si può vedere tra di loro e oggi nel senso che il conflitto che c'è tra gli universi però tutti parlano tanto è che quando qualcosa non entra nel globale gli danno risposte globali poi ne parlerete nel pomeriggio con i migranti i migranti non sono soltanto quelli del Mediterraneo i migranti sono diventato il prodotto infinitamente frammentato e non riconducibile di un globale che non prevede tra le sue variabili delle minoranze che sono anonime diverse e che non entrano nei meccanismi in fondo è lo stesso modo con cui viene presentato un fenomeno come la Stata Al-Qaeda ma adesso l'Isis il califato in cui in una comunità in cui sono lì tutti a vedere che già riconosce questo Stato questo Stato tutti parlano del califato come se fosse una cosa vera quelli hanno detto noi siamo il califato hanno creato l'immaginario nessuno sa nemmeno ancora quanti sono dicono che sono in 30.000 però sembra che nessuno riesce a controllarli cioè noi entriamo sempre più in questa situazione in cui con l'immaginario che è un po' ripeto come la teologia dogmatica che dichiara che tutti quelli che dicono cosa contano non soltanto ma sono proprio eretici sono da buttare fuori perché perché non hanno un'altra teologia dogmatica perché a questo punto allora mentre una storia come quella della Chiesa delle Chiese e tutto sta riscoprendo la normalità anche se la chiamano la laicità di chiamarle cose per loro nome dall'altra parte si sta creando tutta una immaginario a parte con i quali dobbiamo avere a che fare il governo perché guardate che se voi provate a giudicare casamai lo faremo nei gruppi di lavoro come vanno avanti le decisioni che vengono prese nella società qui piuttosto che in Brasile gli ultimi che compaiono sono veramente no i diritti delle persone ma le persone perché perché di fatto le persone non possono essere riassorbite in concetti e le persone possono porre anche delle domande concrete rispetto alle quali oggi si risponde dicendo eh ma il sistema non lo prevede e a questo punto questo sembrava ai tempi quando si cominciava che questo rappresentava da una parte un mondo postcoloniale piuttosto così adesso da una parte le cose vanno avanti voi nascete almeno col nome in Palestina la Palestina è peggiorata non ha più un problema di visibilità la Palestina è purtroppo molto visibile è un oggetto conosciuto da là alla gente da parte di tutti anche dai droni li fanno fuori precisamente dai bombardieri cioè è cambiato il mondo non è cambiato il destino di Radieresh dei bambini che adesso vanno avanti per Gaza piuttosto ad altre parti perché perché il problema è che si sono ritirati ulteriormente quelli che possono fare un cammino diverso allora se questo è un po' il contesto è chiaro che noi dobbiamo immaginare di fare delle analisi che sono eventualmente generali saranno più o meno ripetitive poi mi scusate per eventualmente la ripetitività ma avere un rapporto di analisi che devono essere oggi soprattutto estremamente collegati coi progetti se noi non riusciamo a riformularci dei progetti a misura del quotidiano il rischio il rischio poi ognuno si prende i rischi che voglia ma la probabilità di far arrivare i nostri progetti a chi ne ha bisogno diminuisce proporzionalmente alla nostra incapacità eventuale di riformulare lo dico per il tribunale come per voi delle categorie o degli obiettivi sui quali lavorare uno dei temi su cui il tribunale lavora cercherò di discutere e ne abbiamo parlato anche con alcuni è proprio sul problema della qualificazione giuridica non tanto dei meccanismi della finanza che tutti conoscono ma il problema è è possibile oggi porre la domanda e come sulla legittimità stessa della finanza tutti ne parlano come un'entità è come quando parlavano della trinità allora se uno discuteva che la trinità non la capiva e qualcuno diceva per cui non esiste è chiaro che la finanza esiste e come e funziona in maniera perfetta ma è legittimo dire che è là soltanto dove si deve concentrare la libertà d'azione e l'impunità rispetto al render conto alla gente perché era esattamente in fondo il discorso o è il discorso di tutte le ideologie dogmatiche cioè dei totalitarismi la finanza è un nome dei totalitarismi oggi facilmente declinabili nelle loro versioni un po' in tutto il mondo ma di cui non si può parlare e che pretende di non essere valutato come un totalitarismo perché voi vedete che poi la finanza attraverso le troiche piuttosto a qualcosa distribuisce i titoli il populismo il totalitarismo cioè tutto ciò che è ideologico lo vede laddove ci sono delle persone no? per cui se Grecia dice ma noi abbiamo anche la gente che muore e madonna che populismo la gente che muore non entra mica nei conti delle banche per cui non c'è ma lo stiamo facendo anche da parte nostra poi vate a chiedere a quelli che hanno oggi in Italia degli invalidi qual è la capacità che hanno di ricevere dei sostenimenti dei supporti dei sostenimenti basta cacciare un capitolo o spostarlo dall'ASV al comune e poi il comune dice ma questo è dell'ASV perché l'ASV la città e in questo gioco in questo frattempo le persone non ci sono più perché non essendo né dell'ASV né dall'altra parte e quelli che amministrano queste cose dicono noi cosa possiamo fare siamo dipendenti di questi non possiamo fare le cose dall'altra parte e al massimo dice fate un po' di faccite a muina provate a giocare intorno e se no andate verso il volontariato adesso adesso poi che il volontariato l'ha rilanciato Pisapia Milano con l'ESPO per pulire i muri di Milano perché hanno detto che c'è stata la seconda guerra mondiale il primo maggio che hanno bombardato Milano poi per verità dovuto contare soltanto 15 macchine tutte perfettamente assicurate che sono state perché hanno fatto malissimo ma per dare l'idea di come questo meccanismo di trasformare i termini del problema è diventato dominante allora se scusate della lunga traduzione io quello che pensavo ma sono disposto a cambiare di fare una un po' la storia non perché non la sappiate ma giusto per vedere un attimo com'è che si è sviluppata questa realtà di come la vorrei totalmente polarizzata tra finanza speculativa democrazia in fondo noi tutti siamo dei paesi democratici e se attraverso questa storia il discorso che è nella seconda parte permette di essere meglio affrontato identificando alcuni dei punti che possono diventare una risorsa proprio a livello intellettuale e poi pratico nell'identificare dei progetti per il futuro si dice sempre che senza la memoria non c'è futuro proviamo a vedere se è vero io cerco di farlo e poi cosa mai se sono troppo doioso fate segno qui il moderatore me lo dice e riprenderemo poi delle cose allora il primo punto ve lo sto tenendo è dire ma questa questa sfida tra un immaginario molto totalizzante e che esclude la sperimentazione quotidiana e la democrazia è una cosa molto nuova perché evidentemente questo è importante perché uno dice beh beh siamo siamo stati di vederlo poi è scoppiato fuori questo e noi siamo in effetti il problema che si vuole penso ha a che fare proprio con un problema che tocca non tanto la finanza speculativa quanto la democrazia penso che sia stato tutto un tempo che noi abbiamo vissuto molto in Italia e molto in tanti modi la storia è stata raccontata tante volte è stata ripresa adesso anche quando nelle ultime cose sulla resistenza dopo i settant'anni che c'è stata la fine della guerra in questo tempo come lo racconta molto bene proprio un libro che ha Torino come centro che si chiama La resistenza perfetta non so chi di voi l'ha letto così di Giovanni De Luna che è uno storico di Torino e che racconta di una donna che era di qui vicino una aristocratica l'ha letta che poi sta dall'origine di un posto bellissimo che parecchi di voi conosceranno che mi ricordo Pradmil che è un posto vicino a Pinerolo con un monastero bellissimo moderno che diceva a questo punto come nella resistenza si creava si era creato un immaginario che ci fosse la possibilità di avere una società in cui la diversità non era una blocco nel parlarsi o nell'avere un progetto comune ma si capiva che soltanto accettando la infinita diversità allora erano comunisti cattolici e tutto c'era un progetto di resistenza e si riusciva a produrre non soltanto liberazione ma cultura alla resistenza perfetta in senso che era il concetto di guardate che però non era una cosa tutta rosa e fiori era molto duro ad esempio moriva per le strade in tanti c'erano i traditori c'erano i torturati tutto il problema è di dire la resistenza si diventa democrazia formale a questo punto la democrazia può di colpo essere considerata non più un progetto di ricerca ma un progetto da gestire e a chi appartiene alla gestione del progetto e lì incomincia una democrazia che ha prodotto qualcosa di perfetto nel senso di cioè che ha prodotto un progetto la Costituzione ma ha prodotto dintorno degli interlocutori che si sono posti progressivamente al di là di tante battaglie sappiamo tutto come i gestori del progetto come se un progetto come quello della democrazia che in qualche modo è il progetto del vivere umano con dei diritti potesse avere mai un inizio e una fine ha un inizio ha tanti inizi e noi abbiamo vissuto tanti inizi in fondo la lettera di Resce è stato un inizio del trovare che cosa significava l'appartenenza a tante cose isolate adesso una collettività diffusa che poteva avere progetti tanto che la sua identità veniva creata dai progetti fuori al di là della conoscenza che c'era dentro e in questo senso nella democrazia faceva vedere che c'erano spazi non coperti dalla democrazia perché per esempio il mondo non esisteva dalla democrazia esisteva molto poco esisteva come missionari ma insomma l'Italia non si è mai distinta per essere particolarmente brillante nei rapporti internazionali e nel prendere in mano soprattutto il destino dei più poveri siamo stati contenti quando come i migranti ci hanno riconosciuto più o meno come tollerabili pur con tutta la grande capacità di diffondere mafie ma per il resto noi non abbiamo mai avuto una politica di grandi impegni salvo con pezzi quando c'è stata la guerra di liberazione coloniale l'apartheid dei pezzi che hanno portato a qualche cosa allora la democrazia che a un certo punto è diventata talmente e lo dico perché è un problema talmente l'idea di essere dei privilegianti e di avere la democrazia e di poter esportare non importa come democrazia e tutto questo è andato avanti perché in fondo fino agli anni 70 in Italia ogni volta che qualcosa crollava si ripartiva con altre cose dalle leggi per la laicità dello Stato al diritto dei lavoratori che è diventato quello pilota nel mondo propriamente qui incominciavano a smontare poi le fabbriche ma dal punto di vista della era la democrazia che faceva progetti il sistema sanitario nazionale come elemento ricordiamoci che in fondo i due pilastri dei servizi sistema sanitario nazionale del 78 ma la 833 del 78 e la 180 quella della psichiatria se oggi voi chiedete l'abbiamo provato agli studenti di medicina ti guardano e diciamo ma di cosa sto parlando questo viceversa ma proprio abbiamo fatto dei corsi la 833 ma perché ora è giusto loro adesso hanno imparato altre cose ma non c'è più una legge ciò vuol dire che la gente non si riconosce più allora la 180 non era una legge sulla psichiatria la 180 era l'istituzione negata era un immaginario di liberazione c'era un progetto se uno la trasforma in una legge in cui si dice i manicomi non c'è più e dimentica che i detti manicomi c'erano i malati nel manicomio cancella i manicomi e cancella i malati ed è quello che è successo e a questo punto chi gestisce i malati nei manicomi l'ultima cosa che è successa per i manicomi criminali è un modello manicomi criminali io da quando ero piccolo come medico discute il manicomi criminale ogni volta dicono che li aboliscono perché sono una cosa tremendissima ogni volta dicono che non c'è bisogno di essere così tremendissimi basterebbe fare i manicomi criminali come sono le carceri con un grande obiettivo ma non si può hanno fatto per l'ennesima volta la legge anche per vedere le cose e tutti i responsabili di quei cittadini tutti i comuni hanno detto ok non ci abbiamo pensato fino adesso cioè nei 70 anni allora evidentemente questo problema è critico perché ha a che fare con proprio in questo senso il rapporto che c'è tra dichiarazioni universali e in questo senso rischio che qualcuno sfruttando la suggestione della dichiarazione universale si dichiari universale come la finanza per sostituire per sostituire il diritto universale che è quello che arriva a tutte le persone con un diritto che diventa globale e per definizione il globale è qualcosa che non ha nulla a che fare con le persone ha a che fare come la teologia con entità il commercio i beni tutte queste cose che le merci tutto quello che va in giro uno dei passaggi critici del tribunale dei popoli in questo settore era stato io mi ricordo ancora due passaggi erano stati importanti per l'identità e la comprensione di queste cose qui per il diritto per il tribunale ma penso proprio più in generale la prima sessione del tribunale dei popoli era una sessione su una entità inesistente nel senso che il primo caso che noi abbiamo preso in mano era il caso del polisario il polisario il popolo saraui infatti dicono chi è il popolo saraui allora il popolo saraui è un popolo che non c'è se uno riprende i titoli dei libri di Ecole l'isola che non c'è perché è un popolo che c'è è molto chiaro è molto vicino ai palestinesi in questo senso non è manco riconosciuto in questo senso da nazionale perché è un popolo nomade rappresenta una memoria storica nel deserto del sara tra l'Algeria la Libia la Tunisia il Marocco veniva fuori da un tempo coloniale però non ha fatto tempo ad essere un paese colonizzato soltanto da qualcuno perché nel deserto nessuno salvo che ne fa tempo a qualcuno poi ha scoperto i fosfati nel deserto vicino al Marocco allora a questo punto è diventato importante controllare i fosfati la pesca Polisari aveva per di più una tradizione orale non scritta che si tramandavano un po' con i musulmani o meno e chiedeva di essere riconosciuto come popolo ma chi aveva interesse a riconoscerlo come popolo la Spagna ha detto perché risa di Dio è già buona finirla con franchismo io non ne voglio più sapere lo vendo a chi lo volete perché era un territorio spagnolo e il re del Marocco che era un dittatore prendo io intanto non c'è problema la Francia ha detto benissimo intanto al Marocco di Veneto questi li sono passati da un posto all'altro e c'era il problema e chi di voi lo dovesse leggere quella storia interessante di trasformare un progetto di popolo in un linguaggio concreto di diritto che potesse essere utilizzato da questi che non avevano una tradizione scritta né niente in qualcosa che potesse permettere di dialogare con la gente intorno se no vai all'Unione Europea e dice noi vogliamo essere un popolo e quelli ti mettono in mano la commissione ed è stato un passaggio importante perché a questo punto con la sessione che è stata fatta a Bruxelles con tutti i marocchini che non ci volevano fare la cosa perché diceva che eravamo molti nemici è stato fatto un documento che per me ma per noi era stato molto importante ancora adesso ce l'hanno ricordato quelli del Sarawi che si ricordano di questo che hanno fatto da poco anche un loro anniversario perché effettivamente quello toccava secondo la dichiarazione universale dei diritti dei popoli agli aromani che i diritti universali degli individui non si possono rispettare fino in fondo se uno non crea il contesto perché questi individui possono effettivamente avere delle modalità per essere rispettati se non c'è un contesto se non c'è la democrazia in quel paese uno può dire finché mai io ti rispetto i diritti civili politici ma se la democrazia è soltanto formale non sostanziale io posso trovare una scusa qualsiasi per dire che per esempio per i malati psichiatrici io non ho risorse per i malati psichiatrici e a questo punto in un modello economico il fatto di non aver risorso o dico ai migranti che non ho risorse per i migranti che non hanno già un posto di lavoro ma guarda caso come fanno dei migranti ad avere un posto di lavoro già prima quando da noi in Italia c'è nel sud il 42% dei disoccupati difficile eh allora il problema che si è posto immediatamente per il diritto è come applicare a un mondo in cambiamento non c'erano più le colonie tutte un diritto che era stato immaginato per un mondo postcoloniale e in democrazia quando le democrazie che c'erano intorno non sapevano come riconoscere un popolo che non c'era ed è stata l'idea di questo di trovare il diritto come una disciplina che come le altre o più delle altre ha bisogno di essere una disciplina di ricerca che poneva le domande non ancora risolte era stato interessante perché uno dei protagonisti di questo è stato uno come Senese Salvatore Senese che non è stato soltanto lo conoscete bene per tante cose almeno alcuni ma perché lui che non era un internazionalista ma ha capito il meccanismo perché perché in fondo ha scoperto sulla linea di quello che era stato il discorso dell'Iedo Basso che il problema era stato uguale a noi quando uno doveva applicare la costituzione al diritto dei lavoratori subito dopo la guerra mondiale e chi dei magistrati aveva in testa cos'era la costituzione qual'era l'implicazione giuridica dell'articolo 3 della costituzione dell'articolo 49 su tutto quello che poteva riguardare la libertà dell'articolo 49 dove era il codice e bisognava da parte degli avvocati inventare diritto ma inventare diritto significava fargli entrare attraverso questo delle cose che non erano presenti il diritto del lavoro e il diritto delle persone e il diritto alla vita e il chiamare con nomi diversi tutto quello che altrimenti rimarrebbe fuori dalle aule e la storia è stata lunga per avere un diritto del lavoro degno di questo nome ci sono voluti 30 anni tante lotte perché il diritto non lavora mai senza lotte il diritto senza lotte delle persone è un imbroglio è una trappola perfetta perché dà l'idea come la finanza di avere tutte le regole e le procedure per cui di dire io posso dire che faccio le cose legalmente peccato che il diritto abbia una certa difficoltà a porre la domanda di fondo perché riguarda se stesso ed è la domanda sulla legittimità in fondo quando c'è un diritto che nasce da una costituzione che è stata il prodotto di una grande lotta di tante cose che ha dato qualcosa per lanciare un progetto di ricerca quelli sono quelli che danno la legittimità è una legittimità di fondo non è la procedura per cui c'è stata la costituzione o l'elezione e il problema in questo senso si è posto per il tribunale dei popoli quando e ne avevamo parlato mi ricordo sempre con la rete Radieresdo che hanno partecipato molto del Veneto poi dopo con quel di Bergamo quando c'è stata la sessione sulla scoperta dell'America che era la conquista dell'America è stata nel 92 molti di voi non c'erano ancora nel 92 erano piccoli ma molti di noi anche per i bianchi c'eravamo qual era la domanda in fondo che si poneva per quella che era non per niente una celebrazione e la celebrazione era talmente evidente che il Camero del Vesco che da una parte veniva chiamata la celebrazione della scoperta dell'America era la democrazia che aveva portato o la chiesa che aveva portato la civiltà e il battesimo e dall'altra parte invece bastava cambiare il nome e diceva che era una conquista non è un gioco dei nomi è una sostanza che va là perché a questo punto è come dire ma l'America gli americani è chiaro che l'America non esisteva gli americani sì non si chiamavano così evidentemente e il problema non era che si andava a portare civiltà si andava per interessi di poteri a fare qualcosa e non era mica vero che si andava per battezzare perché all'età di Dio c'era di tutti e di più si andava per evangelizzare guarda caso quello che è stato fatto contro i popoli era scoprire che questo gioco di parole era un gioco molto concordato era di interesse comune quando dicevo della teologia dogmatica di allora che aveva l'idea dell'egliocentrismo di tutte queste cose che erano tutte parte di un pacchetto e della visione globale del mondo e piuttosto il fatto che c'era un salvatore di tutti e che la religione cattolica era l'unico non c'era che in questo senso qua quello che si scopriva o quello che si incontrava non era un altro come te era in ogni modo un altro che o si trasformava nella tua immagine o somiglianza oppure doveva essere distrutto ma non distrutto perché tu sei cattivo ma per carità ma perché non ha diritto di esistere se uno che non accetta la civiltà e non accetta il Vangelo è proprio uno proprio un selvaggio non va mica bene il diritto internazionale nasce per giustificare questo perché a un certo punto Bartolomeo della casa se c'è altro ha detto ragazzi ma qui ce n'è ne avete fatto di tutte e di più diamoci delle regole e il diritto internazionale nasce esattamente come World Trade Organization che nasce nel 94 la conquista del 92 la conclusione del percorso parallelo a quello dei diritti universali che dichiara che c'è un diritto globale delle merci piuttosto che un diritto universale delle persone nel diritto internazionale è del 1994 la celebrazione della conquista del 92 le regole sono le stesse e a questo punto l'interesse di quella sentenza che ritorna più oggi è di dire guardate che quello che nel diritto internazionale occorre cambiare non è una regola l'altra ci sono è chiaro che hanno già fatto il diritto coloniale ma non è è la pretesa che ci sia un diritto super partes per definizione perché è proclamato dagli stati che hanno il potere per dichiarare delle leggi per fare delle leggi che siano universalmente valide in fondo si faceva vedere molto bene con la sentenza che il diritto di evangelizzazione era di fatto il diritto di commercio si evangelizzava perché era un segno della redenzione della fede del fatto che si accettasse la libertà perché se uno non accettava la libertà del commercio voleva dire che non riconosceva un valore allora è già la conquista dell'America il diritto a questo punto viene dichiarato se leggete a chi capita di leggere quella sentenza che il problema era proprio che ci sia una legittimazione del diritto solo laddove ci sono delle lotte di popoli che hanno delle persone alla loro base non delle idee che vengono portate avanti per regolare la vita delle persone la legittimazione del diritto in questo senso è quella che poi nasce via via dalla rivoluzione francese dalla rivoluzione americana mai in maniera definitiva ogni luogo ha un suo bisogno quello che noi viviamo oggi è un po' questa grande sfida che non ha più a che fare con conquista non appartarsi il mondo è diventato globale geograficamente non abbiamo più da scoprire niente anche se qualcuno dice adesso dobbiamo scoprire Marte per quello che riguarda per adesso il mondo degli umani lo conosciamo molto bene e abbiamo anche a che fare con una teologia globale quella dell'economia o della finanza che dice che tutto deve essere regolato da chi ed è interessante a questo punto vedere qual è stato in questo tempo il percorso di quello che era il progetto della dichiarazione universale e o della democrazia in questo tempo e senza dirlo esplicitamente lo rimandava molto bene anche prima un'angara in maniera così naturale come un'evoluzione si è pian piano e facendo come se si trattasse di capitoli diversi svuotata la parola diritto diritto universale dei suoi contenuti ma come non facendo dei dibattiti teorici no 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 perché quello è sempre un po' è più semplice far vedere che nasce anche come la conquista dell'America prima hanno fatto fuori gli indios poi hanno detto perbacco adesso però facciamo un atto di pentimento e dichiariamo che loro hanno l'anima quelli almeno che vengono da adesso in poi prima non ce l'avevano adesso dichiariamo che hanno un'anima va bene ora chi entra nel giro ha l'anima la Cina che entra nella World Trade Organization è diventata da popolo adesso chi può fare a meno della Cina per la verità anche il suo padiglione all'Expo è il più simpatico più creativo allora hanno fatto loro l'Expo prima di noi per cui no non c'è problema allora il problema che si pone è che lo svuotamento concreto delle parole lascia queste parole come effettivamente dei simulacri che sono tanto più pericolosi perché possono essere ripetuti come se fossero esistenti ma di fatto non ci sono più uno di questi simulacri è stato evidentemente il discorso delle Nazioni Unite ma non le Nazioni Unite in quanto Nazioni Unite che il concetto di rete tutti sono comuni bisogna tenerli là sono da tutti c'è il 92 con tante missioni diplomatiche con tanti interessi tanti soldi non si toccano anzi si moltiplicano le agenzie ma le Nazioni Unite come luogo di formulazione di leggi a proporzione del futuro dei popoli non della loro storia pian piano le hanno svuotate il passaggio critico più esplicito non perché ci fosse così è stato quello evidentemente per il quale le Nazioni Unite hanno finito per essere quelle che approvavano la guerra la legittimità non la legalità la legittimità delle Nazioni Unite è basata sul fatto che la dichiarazione universale è fatta perché non ci sia più guerra e che per arrivare a dichiarare una guerra deve esserci un attacco preciso a dei diritti fondamentali la guerra delle Nazioni Unite col Golfo è una cosa fatta un po' così sì consigli di sicurezza sì insomma sì siamo incerti non sappiamo mica poi insomma fanno un po' di cose e giusto tanto perché adesso non c'è tempo per discutere ne facciamo una di guerra è così vediamo poi discutiamo e incominciano tutta un'operazione per cui adesso che sia le Nazioni Unite che sia l'Europa e che dicono bombardiamo così lì o bombardiamo quelli là è diventato con tutti i passaggi delle guerre umanitarie le guerre tra democrazia poi tutti dicono che è sbagliato perché adesso tutti dicono ma che casino abbiamo fatto con l'Iraq ma che casino abbiamo fatto con la Libia cioè è come ripeto nella Chiesa Cattolica il gioco della confessione cioè basta confessarci la prossima volta non facciamo più ma se c'è qualcuno che ci perdona e andiamo avanti in questa direzione svuotando di fatto tutto quello che è il meccanismo di verifica della legittimità questo discorso sulla legittimazione della guerra le Nazioni Unite l'avevano incominciato un po' prima perché quando negli anni 70 si era fatto una serie di operazioni a livello internazionale dalla sanità al resto una delle operazioni prime che era stata fatta era stata quella che è molto centrale con la finanza che si incominciava a vedere e non si era visto anche col tribunale Russell per il Brasile che stava sorgendo accanto al potere pubblico dell'economia un potere privato che pian piano incominciava a dire ma suggerì ma c'è proprio bisogno di uno Stato che ci regoli se noi diventiamo multinazionali possiamo scegliere noi lo Stato che ci piace mettersi lì e dalle altre parti noi siamo legittimi siamo privati la libertà del commercio ci permette di regolarci la prima legislazione delle Nazioni Unite sulle multinazionali che era nata già nel 76 come gruppo di lavoro viene cancellata non sono chiari i problemi e poi le multinazionali non sono dei personaggi pubblici hanno una personalità giuridica ma privata non è di competenza delle Nazioni Unite o pervato si sta creando un potere transnazionale che si dichiara fuori dalla legislazione degli Stati e uno dice perbacca avete detto che gli Stati sono responsabili dei diritti dei lavori di tutto e poi c'è qualcuno che dal lavoro produce questo incomincia da loro a tutto questo discorso la guerra economica o le guerre economiche che sono quelle dichiarate senza che ci sia una possibilità di controllo effettivo da parte degli Stati questa era stata dichiarata per prima sistematicamente nei paesi cosiddetti in via di sviluppo perché era il primo modo è stato quello di esercitare le guerre economiche come le nuove guerre coloniali poi via via che il mondo è diventato globale non c'era più un luogo in cui potesse dirsi la ha sperimentato per l'America Latina poi anche l'Africa è diventato un conflitto poi Sudafrica per fortuna è finito il mondo che ha incominciato negli anni 90 a chiamarsi globale perché perché si descriveva ormai il fatto di poter descrivere c'è una data ben precisa la banca mondiale fa due rapporti nel 90 e nel 93 e poi c'è un rapporto nel 96 che diventa attraverso un sistema perfetto come immagine pubblica che è quello della sanità cosa si fa si produce la prima mappa globale del carico di malattie per dire guardate siamo talmente bravi che fotografiamo il mondo con questa mappa che è stata pubblicata nel 96 un grosso libro dalla Oxford University Press che fa la mappa del mondo per dire abbiamo tutti presenti e facendo finta di avere dei dati affidabili dagli Stati Uniti come nell'ultimo posto in cui si faceva la guerra in Congo la manipolazione però non importa quello che era importante era introdurre nel linguaggio questo concetto di globalizzazione che c'è qualcuno a livello centrale che fa questo in questo senso hanno per esempio la banca mondiale ha partecipato a questo era la prima allora non si poteva molto dire che la banca mondiale era una grande difensora dei diritti con tutto quello che c'era noi abbiamo fatto anche il processo come viene raccordato la banca mondiale ma la banca mondiale cosa fa? Primo compra un paio di università ma le compra sul senso nel senso di dire ragazzi per un po' di anni lavorate per me inglesi e americane e poi sono rimaste comprate non direttamente perché l'università deve essere indipendente ma finanziate per altri versi e mi fate questo rapporto così si fa il discorso di un global map e in cui si fa vedere guardate siamo talmente responsabili che vi facciamo vedere che anche la salute noi sappiamo come controllarla poi si dimenticano di dire si dimenticano no lo dicano alla fine ma insomma quello passa dopo e dice e si scopre che laddove si è più poveri si sta peggio di salute una scoperta assolutamente affascinante però a questo punto cosa si dice che non possono essere più gli stati ad essere responsabili dei servizi pubblici e della salute il problema è troppo globale per essere lasciato agli stati la salute può essere affrontata soltanto da chi ha in mano anche i dati di qual è la condizione economica per giudicare se e quando la salute l'educazione i diritti non venivano chiamati così i diritti bisogna farli tutti basta non farli pratici e i diritti venivano proprio ma si dice guardate questi poverini qui sono talmente poveri che bisogna aiutarli di diventare un po' più ricchi appena sono un po' più ricchi gli diamo anche i diritti guardate che non sto dicendo delle battute questi sono rapporti come quello che lui citava della banca del 2010 è un'alfabetizzazione ad accettare pian piano tutto un linguaggio per cui quando poi da una certa parte a questo piano in cui uno fa vedere di essere in grado di vengono applicate delle terapie di shock e soprattutto ai paesi che più emergono perché dice questi mica penseranno di avere delle cose da vedere per loro conto fermateli li si picchiano gli shock economy che sono una serie di paesi che stavano emergendo e in cui gli si dice hai troppe idee per tuo conto devi obbedire a certe cose il tuo modello industriale non prevede chi di voi per dire chi di voi ha visto il report domenica scorsa e ha visto il servizio sull'Indonesia l'Indonesia era stato uno dei paesi sottoposti a una shock economy perché nell'ambito del sud-est asiatico era uno di quelli che veniva fuori come paese e rischiava di mettere insieme tra Indonesia Filippina Malesia queste nuove economie e gli hanno imposto dei modelli dalla palma o altro cioè modelli che fossero funzionali al mercato globale per cui di fatto l'economia di quei paesi li condizionava ad essere dipendenti dall'economia globale lo svuotamento di coloro che in qualche modo sono titolari dei diritti con un processo perlomeno formalmente democratico cioè gli stati che sono quelli almeno con cui c'è un potere elettorale di scambio vengono pian piano svuotati tant'è vero con eccezioni con oscillazioni l'America Latina entra in un processo di democratizzazione però centralmente la tendenza è quella di far sì che il concetto di un potere centrale delle Nazioni Unite o le agenzie internazionali la World Trade Organization qualcosa di centrale è stato svuotato del suo ruolo di promotore di diritti sostanziali e di democrazia è stato stato un controllore sempre più con le alleanze tra la Nato le Nazioni Unite tutte queste cose qui e è diventato l'alleato assoluto di quelle che sono le trasformazioni economiche in questo processo la democrazia cala a picco dal punto di vista della sua capacità di rappresentare le persone e soprattutto di permettere un dibattito di idee la storia che abbiamo ma senza essere pessimisti perché il problema non è poi per fortuna c'è ancora le lezioni la storia non è finita come pretendeva Kusima o altri la storia va avanti con contraddizioni però il contesto nel quale si vive oggi è fatto di queste tendenze sempre più forti a mettere come criterio direttivo un potere economico che poi si chiama prima economico poi la finanza si aggiunge per rendere ulteriormente virtuale cioè non ricollocabile da nessuna parte non ci sono più lotte da fare per il potere economico sì quando poi si fanno le manifestazioni per la banca centrale europea che i manifestanti vanno per protestare per la nuova sede a Francoforte gli dice va bene bravi ragazzi black box mi chiede tanto per il resto ma i soggetti che possano opporsi a questo se voi prendete la storia di Marchionne per la Fiat e tutto è esemplare un gioco in cui con tutto quello di stato ed è una delle poche occasioni in cui c'è stato una lotta in questo caso qui grazie all'Andina ma il problema si riproduce voi prendete tutta la storia dei contadini e del fatto della ridistribuzione della terra nei grandi paesi la Cina è entrata mettendo capitali a più non posso e facendo lei i servizi poi mette lei i suoi lavori schiavi in Angola ha portato giù circa un milione di persone a lavorare i cinesi li ha messi in un campo di concentramento lavoravano giorno e notte e hanno costruito tutto un petto della città di Angola nello spazio di sei mesi altro che lavoravano poi in tanti in milioni sono tanti lavorare allora è cambiato tutta una serie di scenario e poi dopo loro si prendono il diritto alla terra tutto quello che si parla land grabbing tutto quello che è l'appropriarsi direttamente o indirettamente della terra e le democrazie evidentemente finiscono per essere uno degli altri meccanismi grossi per far questo è il fatto di avere creare sempre più delle aree commerciali in cui i trattati commerciali sostituiscono di fatto le costituzioni di qualsiasi colore se voi prendete tutto quello che è stato fatto col nafta nell'America del Nord il tribunale recente che abbiamo fatto nel Messico se vi capita di vedere la sentenza lo dice in maniera esemplare il processo proprio di svuotamento dello Stato messicano mettendo insieme tutta l'economia formale informale legale criminale i militari i paramilitari le transnazionali tutto lo Stato lo Stato c'è formalmente nessuno crede che le elezioni messicane da mo' siano democratiche anzi ogni volta c'è da dire ma qual è il cartello mafioso che ha sostenuto più questo piuttosto che quest'altro e il potere giudiziario è quel che è e la migrazione per il Messico nel deserto del Messico negli Stati Uniti uguale per il Mediterraneo stesso orrore stesse dimensioni stesse cose i meccanismi e la incapacità di rispondere da parte delle grandi democrazie Stati Uniti e Canada è zero anzi muro come per Israele oppure Canada che era pure un paese democratico di quelli che più aiutava il Sud ed è diventato il paese che ha concentrato il potere delle industrie minerarie estrative che sono quelle che stanno veramente desertificando alcuni dei paesi con le miniere a cielo aperto con tutto quello che poi qualcuno di voi avrà visto anche nel film di Salgado di tutto quello che riguarda il sale della terra allora noi viviamo in questo mondo poi abbiamo tutte le domande io non pretendo di andare avanti già fin troppo il punto che mi sembra sia centrale è quello che il popolo dice che pian piano l'obiettivo in tutto quello che vorrei guardare è che è stata decretata la non legittimità di esistere delle persone le persone rientrano ad essere soggetti di diritto quando sono soggetti economici quando questo passaggio è dichiarato non per niente adesso cioè e questo ci benifica il diritto di il salario minimo di cittadinanza poi dopo noi discutiamo ancora gli ussoli ancora per i migranti poi ne parlerete cioè di siamo parte di un processo in cui in qualche modo tutti noi siamo trasformati in migranti noi dobbiamo conquistare il nostro diritto di essere cittadini se obbediamo alle regole per un tempo sufficiente il Jobs Act se tu sei abbastanza bravo e lavori abbastanza per tre anni hai qualche cosa puoi avere il diritto al lavoro se no se uno ha più o meno una possibilità di emigrare al nord avere qualcosa se sei nel sud e il sud non è previsto come luogo di sviluppo che tu sia in Italia o meno è rilevante il problema poi basta estendere un po' al di là e allora il problema che ci pone e poi vedremo delle domande in avanti è il diritto come fa ad essere ricondotto al servizio di questi si porrà per il pomeriggio per i migranti e poi eventualmente anche per altre cose più in generale qual è il ruolo che in questo campo possiamo avere come individui e quelle sono scelte individuali o come appartenenti a gruppi che sono nati e portano avanti altri progetti è possibile e come portare avanti progetti cioè qualcosa che abbia una durata nel tempo e soprattutto come dicevo quando parlavo della resistenza perfetta un disegno condiviso al di là della diversità un disegno che tenga conto dal dove si viene ma soprattutto che riesca ad abituarsi senza pretendere di avere risposte facili perché non ci sono risposte facili ma non perché la realtà è infinitamente complessa è infinitamente stratificata di potere questo è certo ma perché nessuno oggi può pretendere di avere una risposta a un problema che si è sviluppato lungo tanti anni nel soltanto delle tappe svuotando quello che era l'universo concreto di idee di rapporti che c'è stato per tanto tempo voi pensate come è stato facile svuotare la costituzione italiana con giochi di economia falsi tra l'altro anche da un vista proprio di fondamento teorico o di conti tutti riconoscono perfino il fondo monetario che i loro conti erano sbagliati sulla sostenibilità eppure noi abbiamo introdotto un fiscal compact per cui di fatto oggi e l'hanno cambiato al volo il recuperare questo come tante altre cose evidentemente non è perché il problema sia difficile dire che la costituzione e che il fiscal compact è costituzionalmente inerda se uno nel frattempo incomincia a dire che è la costituzione alla fine che bisogna dirla 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 non c'è problema nemmeno Renzi osa dire che la costituzione è passata però di fatto basta non citarla e basta decidere che io faccio qualcosa poi se la corte costituzionale dice che è illegale lo ha giusto poi vedo un pochettino se è una parte economica ecco noi siamo in questo mondo dobbiamo abituarci a vivere in questo mondo accettando la sfida a qualcosa che sia molto molto radicato sulle cose concrete ma che abbia l'idea che stiamo giocando anche proprio con un cambiamento di immaginario di mente e che dobbiamo fare i conti anche con uno sviluppo di ricerca intellettuale che non significa teorica ma proprio di linguaggio di essere quelli che portano avanti non soltanto progetti ma attraverso dei progetti un linguaggio che alvabetizzi ricordiamoci noi voi siamo nati quando Don Milani a Barbiana diceva esattamente signori dalla parte di là il loro potere è il fatto che loro hanno tante chiacchiere fatte di tante parole noi dobbiamo averne poche ma che sappiano effettivamente tutte quelle dell'altra parte l'alfabetizzazione oggi passa per questa roba qua quando vi accennavo prima non perché sia un fan del Papa che il Papa sta semplicemente facendo una alfabetizzazione per laicizzazione di qualsiasi documento o di qualsiasi affermazione dogmatica o teorica in fondo il Papa parla molto molto poco di Dio di cui dovrebbe essere e si ricorda di essere un pastore che parla di uno che ha parlato del Vangelo è un'operazione di downgrading di portare giù il linguaggio ma proprio perché possa parlare delle persone reali scusate la ringrazia grazie